ciao a tutti ciao e benvenuti a un nuovo episodio de l'italiano in podcast finalmente venerdì finalmente la settimana è finita domani possiamo riposare un po almeno molti di noi possono riposare un po finalmente questa è la puntata numero 270 di venerdì 23 luglio 2021 io sono paolo sempre lo sempre qui come ogni giorno per raccontare a tutti voi qualcosa della mia giornata per parlarvi di questo mio venerdì di questa fine della settimana e anche per raccontarvi qualcosa su quello che è accaduto in italia insomma le notizie più importanti quelle cose che troviamo scritte sui giornali ogni giorno quelle che è necessario sapere almeno è importante o è bene sapere per restare un po aggiornati insomma per andare al bar la mattina bere il caffè e parlare di qualcosa con il barista o qualche altro cliente a volte le notizie sono anche questo un modo per restare agganciati alla realtà che ci circonda spesso infatti sono informazioni ripetitive insomma che non aggiungono molto alla situazione che già conosciamo perfettamente ovviamente altre volte sono fondamentali per la vita di un'intera nazione ma quelle di oggi sono semplicemente notizie di routine oppure possiamo dire notizie notizie un po già già viste già sentite però anche queste sono importanti è importante essere aggiornati come dicevo e per quanto riguarda invece la mia giornata anche questa non è stata così speciale così importante con eventi importanti ma che siano importanti o meno le notizie di oggi la cosa importante è che le vostre orecchie la vostra capacità di ascolto e comprensione sia messa alla prova quindi questo spazio serve a questo mettere alla prova tutto quello che voi studiate mettere alla prova la vostra capacità di seguire quello che dico di ascoltare un madrelingua che parla e riuscire a capire e anche a stare dietro quindi poter distinguere in modo abbastanza chiaro le parole che uso e anche il modo in cui pronuncio queste parole quindi è un esercizio a più livelli e un esercizio che io credo sia importante ed è quello che cerco di fare in questo mio podcast quindi lo scopo principale non è tanto quello di farvi sapere cosa ho fatto non è soprattutto darvi delle notizie dall'italia non è regalarvi una foto del mio paese ogni giorno ma è soprattutto quello di aiutarvi ancora una volta a fare esercizio nel vostro percorso di studi per l'apprendimento della lingua italiana e quindi anche oggi cominciamo subito con la mia giornata con quello che è successo nella mia giornata e poi andremo avanti con i fatti dell'italia quelli che sono accaduti nel mio paese la giornata è stata calda anche oggi una giornata di calore intenso e anche questa sera è molto caldo ma non troppo fastidioso però è ancora un caldo sopportabile è iniziata presto molto presto non so perché ma mi sono svegliato per la prima volta alle 5 e 45 del mattino quando ho aperto gli occhi ho visto l'ora su uno schermo io non ho una televisione come ho detto altre volte ma ho degli schermi ovviamente collegati a computer o anche a dispositivi per poter accedere ai servizi di streaming online quindi c'è uno schermo davanti alla al mio al mio letto e di fronte al mio letto che di solito uso per guardare film o altre altre cose e su questo schermo è sempre presente l'ora quando è spento questo dispositivo quando non sto usando questo dispositivo quindi quando apro gli occhi è facile per me vedere che ore sono quando ho visto l'ora 5 e 45 ho pensato a un incubo forse ma mi sono girato un po nel letto mi sono rotolato un po nel letto e per fortuna mi sono riaddormentato ma mi sono svegliato lo stesso presto circa un'ora più tardi e a quel punto però ho deciso di alzarmi e mettermi in moto accendermi e non restare nel letto quindi sono uscito più presto del solito per la mia passeggiata e questa volta ho fatto una passeggiata più lunga del solito anche oggi purtroppo la mia scogliera preferita era chiusa non so bene che tipo di lavori stiano facendo ma è evidente che ci sono dei lavori che impediscono l'accesso alle persone non ho capito se questo è qualcosa che riguardi solo alcune ore del mattino forse qualche procedura di routine qualche procedura che si fa ogni giorno e che si fa nelle ore in cui io vado a fare la mia passeggiata devo indagare su questo ma vi farò sapere il risultato però è che non ho potuto passeggiare lungo la scogliera al ritorno beh non c'è bisogno che ve lo dicono un bel cornetto questa mattina all'arancia un bel caffè e poi a casa a casa per iniziare la mia giornata oggi è stata una giornata facile anche se sono un po arrabbiato con me stesso la mattina era praticamente libera da impegni ho solo sbrigato alcune commissioni sbrigare un po come fare quindi occuparsi di qualcosa mi sono occupato di alcune commissioni piccole commissioni niente di troppo difficile ma per il resto della mattina ero praticamente libero questo fino alle 3 del pomeriggio l'ora della mia prima lezione volevo fare dei contenuti volevo occuparmi di altre cose anche ma la verità è che non mi sono occupato di niente ho scelto di rilassarmi un po ascoltare un po di musica giocare un po con i miei hobby ovviamente molti hobby come molti di voi sanno e quindi ho deciso di rilassarmi un po tutto qui come ho già detto niente di speciale e quindi ho un po ozziato beh non è esatto non è esatto dire ho ozziato perché ho fatto delle cose ma non ho fatto cose di lavoro fino alle 3 come ho detto alle 3 ho iniziato una serie di tre lezioni che mi hanno portato fino alle 7 del pomeriggio con brevi pause tra una lezione e l'altra in cui ho preso un caffè fatto altre piccole cose ma niente di eccezionale quindi una giornata non troppo faticosa sicuramente però alla fine della giornata sono riuscito anche a pubblicare un nuovo rebus quindi mentre oziavo quindi tra una lezione un'altra con un po di ozio con molto ozio nella mattina sono riuscito a pensare a questa nuova frase e a realizzare insomma questo nuovo rebus per tutti voi quindi non posso dire di non aver fatto completamente niente però non è stato troppo difficile ho avuto un'ispirazione che in pochi minuti ha salvato un po la giornata quindi mi ha permesso di aggiungere un nuovo contenuto al blog questa settimana non è stata una settimana produttiva per il blog e devo cercare di rimediare la settimana prossima in realtà ho un articolo pronto da qualche giorno e aspetto di pubblicarlo ma ogni volta ogni giorno controllo un po se c'è qualche anniversario storico o qualche personaggio famoso di cui parlare insomma ma anche questo articolo è molto interessante è molto carino secondo me quindi nei prossimi giorni nelle prossime settimane sicuramente lo pubblicherò vorrei anche fare qualche nuovo esercizio ma vedremo la settimana prossima sarà probabilmente molto diversa proverò a lavorare di più al blog e quindi dopo queste lezioni non c'è stato nessun altro impegno di lavoro ho pubblicato come ho detto il nuovo rebus e poi ho cenato e mi sono rilassato un po fino all'ora del podcast di questo ultimo episodio della settimana oggi è venerdì quindi domani non c'è una puntata dell'italiano in podcast e come ho detto è possibile per me riposarmi un po' e ricaricare le batterie dico spesso questa frase è una frase abbastanza comune per molte persone quindi domani ricarichiamo le batterie tutto qui per quanto riguarda oggi come vi ho detto prima nessuna emozione particolare niente di speciale però un po' di riposo scusate e molto molto rilassamento diciamo così sì sì quindi una giornata con un po' di lavoro ma non troppo bene vediamo invece cosa è accaduto nel mio paese nella mia bella Italia beh qualcosa è accaduto nel mondo qualche volta lo faccio lo sapete quando c'è qualcosa di particolare oggi farò lo stesso un piccolo accenno a una notizia non italiana ma che riguarda anche l'Italia riguarda tutti i paesi del mondo è partito oggi è iniziata oggi finalmente questa olimpiade Tokyo 2020 è ufficialmente iniziata in questo questo giorno quindi è stata accesa la la fiaccola olimpica il bracere scusate il bracere olimpico non la fiaccola la fiaccola è quella che viene portata in viaggio per raggiungere appunto il bracere e dare inizio a una nuova edizione degli olimpiadi speriamo che siano delle buone olimpiadi purtroppo credo che manchi completamente il pubblico ma non sono sicuro di questo però credo che sia stata presa questa decisione di non ospitare il pubblico durante la manifestazione e questo è un vero peccato però io seguirò come sempre da casa alcune gare non tutte ma quelle che di solito mi appassionano di più e anche qualcuna di qualche sport che non conosco qualche volta faccio così per conoscere un nuovo sport seguo anche alcune gare delle olimpiadi che di solito non conosco insomma qualche disciplina che non ho mai visto beh questa è una piccola parentesi perché questo avvenimento è ovviamente importante tutti sappiamo che questo avvenimento arriva con un anno di ritardo a causa di un problema che tutti conosciamo è prima di iniziare questa celebrazione questa cerimonia di apertura dei giochi olimpici è stato osservato un minuto di silenzio per tutte le vittime del covid nel mondo questo è stato un gesto molto molto bello e sono assolutamente d'accordo con chi ha scelto di fare questo gesto di osservare un minuto di silenzio significa appunto mantenere in silenzio tutto lo stadio per un minuto è stato più facile del solito perché non c'era il pubblico ma sicuramente anche il pubblico non avrebbe fatto nessun rumore e su questo siamo tutti sicuri perché le vittime del covid sono tante e come dire ricordarle è importante per quanto riguarda invece l'Italia beh, le notizie che vi posso dare sono poche, non troppe quelle non covid comincio prima da un mio errore un mio errore che però è stata colpa dei giornali in particolare dell'Ansa oggi è il compleanno di Mattarella non ieri ma mentre oggi non trovo nessuna notizia in prima pagina diciamo o comunque in evidenza ieri c'era questa notizia in evidenza e ho pensato che fosse ieri non ho letto in modo approfondito l'articolo e in effetti era un po' strano perché ho dei siti di riferimento per cercare i compleanni di personaggi famosi e quello di Mattarella non era nell'elenco questa cosa mi aveva un po' insospettito ho pensato a una distrazione delle persone che scrivono su questi siti ma oggi ho capito che invece era un mio errore ho dato il compleanno con un giorno di anticipo quindi oggi è il compleanno del nostro presidente della Repubblica e gli facciamo di nuovo tanti auguri tanti auguri presidente l'altra notizia non covid beh riguarda il caldo nel prossimo fine settimana è previsto un caldo record in alcune città italiane in alcune zone italiane Perugia in particolare ha il bollino rosso quindi un forte calore sta per arrivare sulla città quindi questa era una notizia non covid importante che ho visto ci sono anche alcune nuove dichiarazioni di questo assessore di Voghera che è stato che è coinvolto insomma in questo fatto di cronaca in questa tragedia l'uccisione la morte di questo giovane uomo marocchino beh si tratta di un'uccisione in effetti il problema è capire se è stata una una disgrazia quindi se è stato qualcosa di accidentale cioè non voluto o se c'è una responsabilità di questo assessore del comune che ha forse sparato in modo come dire non legittimo ma soprattutto senza avere davvero un motivo valido quindi senza essere davvero in pericolo ci sono delle sue nuove dichiarazioni che appunto in cui lui ripete questa questa storia questa avversione dei fatti secondo la quale questo questo giovane uomo lo ha aggredito lo ha aggredito beh i giudici sono al lavoro e anche la polizia quindi presto potremo capire meglio cosa è successo ma tutto qui per quanto riguarda il mondo non covid vediamo un po' invece cosa è accaduto nel mondo covid c'è questo boom di prenotazioni per i vaccini dopo le parole di draghi le persone hanno iniziato a vaccinarsi ma questi giornali però esagerano un po' danno dei meriti a questo super mario un po' eccessivi la verità questo è il mio punto di vista ovviamente è un'opinione personale è che le persone sono corse a vaccinarsi perché vogliono il green pass e non vogliono rischiare di essere esclusi dagli eventi l'effetto draghi non è un effetto di un leader carismatico che convince i suoi cittadini ma è l'effetto delle decisioni del suo governo non si può entrare in un ristorante non si può entrare in un luogo chiuso dal 6 agosto senza questo famoso passaporto verde chiamiamolo così draghi ha scelto la strada di macron e ovviamente le persone non vogliono perdere la possibilità di entrare in questi luoghi pubblici quindi l'effetto draghi non è quello del carisma di super mario ma semplicemente delle leggi che ha messo in campo cioè che ha che ha proposto beh vedremo un po' le reazioni ma mi pare che tutti i leader non contestano questa scelta o almeno se lo fanno lo fanno senza troppo troppa convinzione senza insistere a partire proprio da Salvini che si è vaccinato e anche la Meloni che borbotta sempre un po' perché lei è all'opposizione di questo governo è uno dei pochi partiti che non sostiene questo governo e anche lei beh lo farà ha detto che lo farà presto però diciamo che dalla posizione del suo partito è più facile criticare il governo per Salvini e altri partiti che sostengono questo governo quindi che votano per questo governo ovviamente è più difficile essere critici non so se sia giusta o no questa decisione davvero non lo so ma nel mio caso è poco importante perché da molto tempo avevo deciso di vaccinarmi e da molto tempo sono convinto che sia giusto quindi non è non fa davvero molta differenza però c'è un però c'è una differenza ovviamente importante perché non fa differenza per me perché io avrò questo Green Pass fra otto giorni in ogni caso avrei fatto il vaccino ma mi chiedo se però questa misura questa decisione non sia un po' eccessiva anche nei ristoranti o altri luoghi pubblici della nostra vita quotidiana non so non so davvero se questa è una scelta giusta spero ovviamente che questa sia una necessità temporanea quindi che presto non ci sia più bisogno di questo per per la nostra vita quotidiana ma per il momento è giusto non essere non borbottare quindi non lamentarsi troppo e pensare ancora a tutti a tutti i problemi che questo covid ci può dare in futuro bene vediamo quali problemi ci ha dato oggi invece nel bollettino di oggi possiamo trovare 5143 positivi in più 17 sono le vittime purtroppo aumentano i ricoveri aumenta un po' tutto aumenta anche questo famoso RT questo indice che è necessario capire l'andamento del contagio siamo a 1,5 è stabile invece il tasso di positività al 2,2% ma in generale è chiaro che c'è una tendenza all'aumento che probabilmente non sarà troppo grave durante l'estate ma come sempre in autunno potrebbe peggiorare un po' di più anzi molto di più anche ma speriamo che l'aumento invece anche dei vaccinati eviti i problemi in autunno 64 milioni 300 mila le dosi somministrate 29 milioni 345 mila gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale 54,3% della popolazione e continuiamo ad andare avanti fra 8 giorni a quest'ora fra 7 giorni a quest'ora anche io farò parte di questo numero delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale spero di essere in grado di fare il podcast tutti mi parlano di una seconda dose più forte della prima una seconda dose che causa qualche piccolo sintomo o anche in certi casi sintomi un po' più gravi spero davvero che non sia così per me ovviamente ve ne parlerò quando sarà il momento con questo è tutto per quanto riguarda le notizie non ci resta che dare un'occhiata alle nostre rubriche quotidiane nessun avvenimento particolare nessun anniversario importante da ricordare per oggi parliamo solo di alcuni compleanni di personaggi importanti beh il primo ve l'ho già detto è quello di Sergio Mattarella un altro compleanno di un personaggio importante è quello di Edoardo Bennato un grande cantautore italiano un musicista molto apprezzato che quest'anno è stato il padrino della festa della musica di qualche settimana fa vi ho parlato anche di questo e se non ricordate c'è un articolo nel mio blog vi invito a leggerlo e ad ascoltare la mia voce che lo legge per voi questi sono i compleanni di personaggi famosi ma domani c'è il compleanno di un personaggio molto più importante di loro ovviamente domani il podcast non c'è quindi ne parlo oggi ed è la prima volta che posso parlare di questo compleanno perché il podcast è iniziato il primo settembre quindi è la prima volta in cui c'è un episodio del podcast beh è un personaggio importantissimo ed è mio padre ed è un anniversario purtroppo non è non posso dire che sia davvero un compleanno perché lui è scomparso ormai da più di dieci anni quindi domani è il compleanno di quest'uomo molto importante più importante di Sergio Mattarella e più importante di Edoardo Bennato e anche se è un anniversario io faccio tanti auguri a Salvatore a mio padre se lui fosse ancora vivo compirebbe domani 91 anni con questo è tutto per i personaggi importanti vediamo invece l'aforisma del giorno la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre la frase che ho scelto per voi oggi è questa chi possiede delle certezze d'acciaio è convinto di sapere tutto e dunque inaridisce la propria voglia di apprendere scoprite voi l'autore o l'autrice di questa di questo aforisma scoprite anche qualcosa sulla sua vita come vi consiglio spesso di fare ma intanto con questa frase si chiude la puntata di oggi si chiude la settimana e con questa frase vi do l'appuntamento a domenica per un nuovo episodio dell'italiano in podcast vi auguro anche un buon fine settimana vi auguro di trovare un po' di pace un po' di tranquillità di riposarvi da una settimana di lavoro e perché no di trovare anche qualcosa di divertente o interessante da fare quindi ci vediamo anzi ci sentiamo domenica per il momento è tutto e io vi saluto ciao a tutti